Come avevo detto in un altro video, ci sono delle piramidi di cui non si parla. La piramide più alta del mondo dovrebbe essere la piramide di Cheope, se non vado errato, e Incas, Maya, tutte queste civiltà stranamente hanno costruito sempre queste piramidi, ma non si capisce perché proprio questa piramide, questa forma così particolare, innaturale, se vogliamo. E gli uomini del tempo, o le entità del tempo, hanno sempre contribuito a costruire questo tipo di forma geometrica molto particolare. Vi ripeto, come ho accennato in un altro video, la piramide di Cheope, a confronto alla piramide che vi sto per dire, è una bazzecola. In Bosnia, come vi avevo detto, in Bosnia, precisamente a Bisoco, Bisoco, non mi ricordo bene la località, c'è una piramide, la piramide è che ogni pietra arriva anche fino a 40 tonnellate, una pietra, un masso che costituisce questa piramide, e in tutta la Bosnia sono dislocate nove piramidi che arrivano fino a 270 metri, quindi a confronto Cheope era un po' peraccio. Però si parla sempre di quelle piramidi che uno può vedere così a occhio nudo, perché purtroppo non si possono nascondere. E una cosa più, diciamo così, particolare è che le altre invece piramidi più grandi, queste piramidi più grandi, sono occultate, come vi ho detto sempre, nell'altro video vi ho accennato, dalla vegetazione. Allora, io dico, 40 tonnellate ogni masso che compone questa piramide, 270 metri di altezza, 9 piramidi in Bosnia, ok? Nella zona della Bosnia. Ma io dicono, perché non se ne parla? Perché non se ne parla? Perché si narra, io non posso confermarlo, però magari voi potete fare delle ricerche in merito a questa notizia. Si parla che praticamente da questa piramide c'è una portante, questa piramide emette una portante radio. Come vi avevo già accennato, un faro per l'universo, un faro radio, un radio faro, questa portante che viene sparata verso il cielo, a che cosa può servire una portante radio sparata verso il cielo? Ma forse è un faro, forse vogliamo in qualche modo far riconoscere a livello spaziale questo pianeta Terra che potrebbe essere un porto. I fari stanno nel porto. Allora, io dicono, la scienza che cosa fa? La scienza anziché di andare a verificare, perché esiste una fondazione di un archeologo che ha praticamente scoperto queste piramidi, ha creato questa fondazione che a quattro spicci non ha la potenza di una grande multinazionale per poter andare in fondo a queste scoperte. Evidentemente queste scoperte sono scomode, non convengono a nessuno, non conviene a nessuno andare avanti con le ricerche. E' questo poveraccio di archeologo che, non ricordo il nome, scusatemi, ma io, nomi, posti, luoghi... Cioè, no, 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 purtroppo mi manca questa memoria di questi dettagli, ma alla fine è il concetto. Io propongo il concetto, no? Questa piramide che... queste piramidi, nove piramidi, di cui qualcuna alta circa 270 metri, che fa impallidire appunto la piramide di Cheope, queste piramidi sono sommerse dalla vegetazione. Basterebbe un investimento per portarle alla luce, per studiarle, ma purtroppo c'è questa portante radio, un po' compromettente, forse stanno facendo delle ricerche in background, nell'ombra, per cercare di individuare questo trasmettitore e eliminarlo prima di portarla alla luce. Non lo so, sono un complottista, mi posso permettere di dire queste cose, perché, essendo comprottista, le mie cose vanno prese con le pinze, e quindi non sono processabile dal punto di vista, dice, questo è sceno, questo è comprottista, quindi mi posso permettere di dire questo e altro. Al limite mi posso beccare un cretino, un deficiente, un idiota, ma poco importa. Io sto qui per soddisfare le mie curiosità e le vostre, di chi vuole essere in qualche modo soddisfatto dalle proprie curiosità, chiacchierando e cercando di capire insieme qual è il vero problema di questa società occulta che cerca di aggiustarsi le cose a modo suo. Però, la cosa fa pensare, perché in effetti sta a due passi da noi, no? La Bosnia sta qua vicino, la Bosnia sta qua vicino, e quindi uno può andare anche a verificare se vuole, se ha la possibilità economica, che qua ormai si parla solo di possibilità economiche, e quindi giustamente le crisi pilotate cercano di eliminare la possibilità che una persona possa avere una disponibilità economica per andare a vedere con i propri occhi. È tutto un complotto, sì, è tutto un complotto. Purtroppo io sono spettro maledicto, la penso così, e per fortuna non sono l'unico. Facciamo una cosa, facciamo una ricerca su queste piramidi della Bosnia e dintorni, questa piramide di Bisocco, Bisocco, non ricordo. Facciamo una ricerca su queste pietre da 40 tonnellate portate da chi? Da chi? Chi è che riesce a portare una pietra da 40 tonnellate? Perché non fanno un test sulla, diciamo così, sull'anno di realizzazione di queste piramidi? Perché non fanno un test per vedere come si sono, chi l'ha fatte, oppure se si sono formate? Può essere pure? Può essere pure che la natura ha spezzato massi da 40 tonnellate in un parallelepipedo, le ha messe una sull'altra e ha formato una piramide. Vi lascio con questa frase perché vi deve far ragionare, sono le cose strane che vi fanno ragionare. Cioè, ma come si fa? Ma come si fa? Spectro maledicto, segnatevi a sto canale perché c'ho un sacco di cose da dirvi. Eh, vabbè, ne voglio discutere con voi. Più iscritti ho e più ho la possibilità di capire. Io voglio capire e voglio capire insieme a voi. Cerchiamo di capire. Un abbraccio.